Anche se privo di sbocchi sul mare, il Piemonte è offerto e offre un apporto non trascurabile alla storia della marineria italiana. Per valorizzarlo e analizzarlo meglio, la Biblioteca della Regione ospita la mostra Il Piemonte sul mare dal Medioevo oggi, la Marina Sabaudo Sarda 1260-1861 e l'apporto del Piemonte alla Marineria d'Italia dall'Unità ad Oggi e un ciclo di conferenze nei mercoledì di marzo dedicate ai Savoia e al mare. L'esposizione, curata dal Museo Civico Navale di Carmagnola, è visitabile fino al 17 aprile.